Lezione 1. Esplorando il centro. E Anna, hai esplorato il centro del villaggio ultimamente? Oh, è così vivace e pieno di vita. Adoro l'atmosfera che c'è. Assolutamente. Il centro è l'area in cui si concentrano i negozi, i caffè e le gallerie. Sì, mi piacciono soprattutto le piccole boutique. Hanno oggetti così unici. Sono d'accordo. È divertente trovare pezzi unici che non si trovano da nessun'altra parte. E i caffè locali sono ottimi per osservare la gente mentre si gusta un caffè. Sicuramente. La settimana scorsa ho trovato un bar accogliente che offriva i migliori dolci. Sembra delizioso. Offrono bevande speciali? Sì. Hanno una fantastica selezione di tè alle erbe e raffinati caffellatte. Devo dare un'occhiata. Che mi dici degli eventi in centro? Ce ne sono in arrivo. C'è un mercato contadino ogni sabato e ho sentito che il mese prossimo si terrà un festival musicale. È eccitante. Adoro sostenere gli agricoltori locali e ascoltare musica dal vivo. Lo stesso cui. È un ottimo modo per entrare in contatto con la comunità. Dovremmo programmare di andare insieme. Sarebbe una giornata divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire di più su ciò che il centro ha da offrire. Ehi Anna. Ho sentito che stai cercando di trovare nuove idee di menù per la tua cucina. Sì. In realtà sarebbe fantastico. Ultimamente ho problemi con le idee per il menù. Ti capisco benissimo. A che tipo di piatti stai pensando? Voglio creare un mix di pasti sani e confortanti, ma sono a corto di ispirazione. È un buon equilibrio. Hai mai pensato di esplorare diverse cucine per trovare nuove idee? Questo è un ottimo suggerimento. Adoro il cibo italiano e messicano. Hanno così tante opzioni gustose. Assolutamente. Potresti provare a preparare una sana pasta primavera o dei tacos freschi. Sembrano deliziose. Volevo fare tacos fatti in casa con salsa fresca. Sarebbe un successo. Puoi personalizzare i condimenti secondo i tuoi gusti. Quali altri piatti ti piacciono? Mi piace molto friggere verdure e proteine. È veloce e nutriente. La frittura in padella è una tecnica fantastica. Hai provato a sperimentare diverse salse? Non proprio. Di solito mi limito alla salsa di soia, ma mi piacerebbe provare il teriyaki o l'agrodolce. Aggiungerebbero un ottimo sapore. Puoi anche aggiungere delle spezie per un tocco in più. È una buona idea. Dovrai assolutamente giocare con le spezie più spesso. Si tratta solo di sperimentare. Forse possiamo fare una sessione di cucina insieme e condividere idee. Lo adoro. Cucinare con un amico lo rende sempre più piacevole. Pianifichiamolo presto. Di sicuro. Non vedo l'ora di vedere quali deliziose creazioni riusciremo a creare. Lezione 3. Elementi essenziali per il giardino. E' Anna. Sono stata al Garden Center ieri e avevano così tanti attrezzi. Sembra eccitante. Cosa hai visto? Avevano una varietà di pale e rastrelli. Era difficile scegliere. Bello. Avere gli strumenti giusti rende il giardinaggio molto più semplice. Hai trovato qualcosa di utile? Sì. Ho preso una pala robusta. Penso che aiuterà davvero a scavare. Ottima scelta. Le pale sono essenziali per qualsiasi giardiniere. Hai cercato anche dei guanti? L'ho fatto. Ho notato che i loro guanti sono laggiù sullo scaffale. Avevano tagli e colori diversi. E' perfetto. I buoni guanti possono proteggere le mani e rendere il giardinaggio più piacevole. Assolutamente. Preferisco guanti spessi ma abbastanza flessibili da consentire in movimento. Sono d'accordo. È importante trovare il giusto equilibrio. Ne hai presi un paio? Non ancora. Ma ho intenzione di farlo. Voglio provarli prima per vedere quali si adattano meglio. Un'idea intelligente. È sempre bene testarli. Qualche altro strumento attira la tua attenzione? Avevano alcuni interessanti gadget da giardinaggio come attrezzi manuali ergonomici. Sono fantastici. Possono ridurre l'affaticamento dei polsi durante il lavoro. Esattamente. Sto pensando di tornare a prendere qualche altro oggetto per il mio giardino. Sembra un piano. Un giardino ben attrezzato può essere davvero gratificante. Non vedo l'ora di iniziare a piantare. Confronteremo le note sulle nostre esperienze di giardinaggio più avanti. Ehi, Anna. Stavo pensando al nostro recente acquisto. Potrebbe essere meglio dividere il pagamento. È una buona idea. Che ne dici di suddividere il pagamento in tre rate? Esattamente. Sarebbe più facile gestire il nostro budget in questo modo. Sicuramente. Pagare a rate può aiutare a evitare stress finanziari. L'hai già fatto prima. Sì. Ce l'ho. Ha funzionato bene per un nuovo laptop che ho acquistato l'anno scorso. Sembra intelligente. Il negozio offriva piani specifici. L'hanno fatto. Hanno fornito un programma chiaro senza costi aggiuntivi. Il che è stato fantastico. Questo è importante. Non vorrei finire per pagare più del prezzo originale. Assolutamente. La trasparenza è fondamentale quando si tratta di piani di pagamento. Sono d'accordo. È bene leggere attentamente i termini prima di accettare. Sì. Mi assicuro sempre di capire tutto ciò che comporta. Hai intenzione di fare grandi acquisti a breve? Lo sono. Sto pensando di comprarmi una bicicletta nuova. Ma può essere piuttosto costosa. Una bicicletta sembra divertente. Dividere il pagamento potrebbe sicuramente aiutare in questo senso. Esattamente. Cercherò negozi che offrono piani rateali. Mossa intelligente. È un ottimo modo per goderti il tuo acquisto senza stress. Lezione 5. Strategie di marketing. Ehi, Anna. Ultimamente ho letto molto sul marketing. Sembra interessante. Cosa ha attirato la tua attenzione? Mi piace l'idea di sviluppare strategie per raggiungere un pubblico diverso in modo efficace. Assolutamente. Comprendere il proprio mercato di riferimento è fondamentale. Quali strategie hai trovato più interessanti? Ho scoperto che il content marketing può essere molto efficace. Crea fiducia e coinvolge i potenziali clienti. Sì. Fornire informazioni preziose può davvero attirare un pubblico. Hai pensato a qualche idea specifica per i contenuti? Stavo pensando di creare post di blog o video informativi relativi a un prodotto. Ottima idea. I contenuti visivi, come i video, possono essere particolarmente coinvolgenti. Quali argomenti tratteresti? Forse tutorial su come utilizzare il prodotto o testimonianze dei clienti. Sembra perfetto. Le esperienze reali possono risuonare tra i potenziali acquirenti. Esattamente. Si tratta solo di entrare in contatto con loro a livello personale. Quali altre strategie ti piacciono? Anche la pubblicità sui social media è efficace. Consente campagne mirate in base agli interessi degli utenti. Assolutamente. Piattaforme come Instagram e Facebook possono raggiungere dati demografici specifici. Questo è vero. L'analisi dei dati può portare a un migliore processo decisionale per le campagne future. Adoro il modo in cui il marketing è in continua evoluzione. Mantiene le cose eccitanti. Di sicuro. Facciamo un brainstorming di altre idee insieme. Collaborare potrebbe essere divertente. Lezione 6. La gioia di leggere. E' Anna. Ho appena finito un libro affascinante e mi ha fatto pensare a come interpretiamo le storie. E' fantastico. Cosa pensi che significhi per noi lettori? Credo che ci aiuti a capire le cose da soli. Ogni lettore porta via qualcosa di diverso. Assolutamente. È incredibile come ogni persona possa avere una prospettiva unica basata sulle proprie esperienze. Giusto? Dopo aver finito di leggere, spesso diciamo, Uah, non ci ho mai pensato in quel modo. Esattamente. Apre nuovi modi di pensare e comprendere il mondo. Che libro hai letto? Ho appena letto L'alchimista di Paolo Coelho. Si tratta solo di seguire i propri sogni. Adoro quel libro. È così stimolante. Il viaggio alla scoperta di sé risuona davvero in molte persone. Sì. Ho trovato molto potenti le lezioni sulla perseveranza e sull'ascolto del proprio cuore. Questi temi sono universali. Hai mai provato ad applicare qualche lezione tratta da un libro alla tua vita? Sicuramente. Ho iniziato a scrivere un diario per riflettere sui miei obiettivi, proprio come ha fatto il personaggio principale. È un'idea meravigliosa. Tenere un diario può aiutare a chiarire i pensieri e tenere traccia dei progressi. Esattamente. Che mi dici di te? Hai un libro preferito che ti ha influenzato? Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è il mio preferito. Mi ha insegnato l'importanza del carattere rispetto allo status sociale. Questo è un classico. È interessante come la letteratura possa sfidare le norme sociali. Sì. Ci fa pensare in modo critico al mondo che ci circonda. Continuiamo a condividere i nostri libri preferiti. Di sicuro. Ogni storia che leggiamo può portare a conversazioni e approfondimenti più profondi. Lezione 7. Mangiare consapevolmente. È corretto. Si tratta di prestare attenzione alle scelte e alle sensazioni alimentari mentre si mangia. Esattamente. Ti incoraggia ad assaporare ogni boccone invece di affrettarti a mangiare. Adoro quell'idea. Può davvero cambiare il modo in cui apprezziamo il nostro cibo. Cosa hai imparato a riguardo? Ho scoperto che essere consapevoli può aiutare a prevenire l'essesso di cibo. Quando ti concentri sui segnali della fame, mangi la giusta quantità. Questo ha senso. È facile ignorare quei segnali quando siamo distratti. Sì. Come quando mangiamo mentre guardiamo la TV o scorriamo i nostri telefoni. Giusto. Hai provato qualche tecnica per praticare un'alimentazione consapevole? Oh. Ho iniziato spegnendo tutti gli schermi durante i pasti e concentrandomi solo sul cibo. È un ottimo inizio. Deve aiutarti a goderti appieno i sapori e le consistenze. Sicuramente. Cerco anche di masticare lentamente e di apprezzare i diversi gusti. Dovrei provarlo. A volte prendo fretta e non mi accorgo nemmeno di cosa mangio. È sorprendente quanto possiamo perdere quando non siamo presenti durante i pasti. Di sicuro. Penso che mi porrò l'obiettivo di praticare un'alimentazione consapevole almeno una volta al giorno. Sembra un piano solido. Può portare abitudini alimentari più sane nel tempo. Sì. Condividiamo le nostre esperienze e i nostri suggerimenti man mano che procediamo. Ottima idea. Sono entusiasta di vedere come trasforma il nostro rapporto con il cibo. Lezione 8. Meraviglie del fine settimana. Ehi Anna. Hai piani interessanti per il fine settimana? Non proprio. Sto solo leggendo e rilassandomi a casa. Sembra carino. In quale libro hai intenzione di immergerti? Sto iniziando il circo notturno. Ho sentito che è magico e affascinante. Adoro quel libro. Le immagini sono così vivide. Ti perderai nel mondo che crea. Non vedo l'ora. Che ne dici di te? Hai dei piani divertenti? Sto pensando di fare escursioni se il tempo è bello. Adoro stare all'aria aperta. Sembra meraviglioso. Stare nella natura è rinfrescante. Hai un posto preferito per le escursioni? Sì. C'è un bellissimo sentiero in riva al lago. I panorami sono mozzafiato. Sembra perfetto. Deve essere un ottimo modo per rilassarsi e godersi il paesaggio. Lo è davvero. Inoltre, mi piace fotografare i paesaggi. Oh, mi piacerebbe vederli. La fotografia aggiunge un altro livello di divertimento alle escursioni. Di sicuro. Catturare momenti mi aiuta ad apprezzare e ancora di più la bellezza che mi circonda. Sono d'accordo. Forse dovrei unirmi a te a fare un'escursione la prossima volta. Sarebbe fantastico. Potremmo esplorare insieme e condividere le nostre esperienze. Lezione 9. Gestione delle responsabilità E Anna. Ho sentito che ti stai assumendo nuove responsabilità sul lavoro. Sì, credo di sì. Ma devi chiedere loro maggiori dettagli. Questo è un buon punto. Chiarire le aspettative è fondamentale. Ti senti preparato? Penso di poterlo gestire. È da un po' che mi alleno. È bello sentirlo. Che tipo di responsabilità ti assumerai? Gestirò un piccolo team e supervisionerò i progetti. È un po' impegnativo, ma emozionante. Wow! Sembra un'opportunità fantastica. Come pensi di guidare la tua squadra? Voglio concentrarmi sulla comunicazione aperta e sulla collaborazione. Il contributo di tutti è prezioso. Questo è un approccio intelligente. E se dovessi affrontare delle sfide lungo il percorso? Credo nell'affrontare i problemi a testa alta. È importante discutere i problemi in gruppo. Assolutamente. Il lavoro di squadra può portare a soluzioni migliori. Hai qualche strategia in mente? Sto pensando di impostare check-in regolari per assicurarmi che tutti siano sulla stessa pagina. Sembra efficaci. Una comunicazione coerente aiuta a creare fiducia all'interno del team. Sì. Voglio che si sentano a proprio agio nel condividere le loro idee e preoccupazioni. Questa è un'ottima mentalità. Sono sicuro che ti comporterai benissimo nel tuo nuovo ruolo. Lezione 10. Attualità. Ehi, Anna. Hai seguito le notizie sulle recenti questioni politiche in Nord America? Sì, ce l'ho. La situazione è piuttosto complicata, soprattutto considerando il modo in cui le politiche vengono invertite. Esattamente. Oggi è una grande questione politica. Molte persone sono preoccupate per l'impatto sulle comunità. Sono d'accordo. I cambiamenti possono influire sull'assistenza sanitaria, sull'istruzione e persino sulle politiche ambientali. Giusto. È allarmante la rapidità con cui le cose possono cambiare nel panorama politico. Hai visto esempi specifici di politiche che sono state invertite? Sì. Ho letto delle modifiche alle normative ambientali introdotte solo pochi anni fa. Questo è preoccupante. Sembra che potrebbe avere effetti a lungo termine sugli sforzi per il cambiamento climatico. Assolutamente. Solleva interrogativi sulla direzione futura del paese. Come pensi che stiano reagendo le persone? Molti stanno organizzando proteste e gruppi di difesa per esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni. È incoraggiante. L'attivismo può davvero attirare l'attenzione su questi problemi. Sì. Anche i social media svolgono un ruolo importante nella mobilitazione delle persone. Sicuramente. Consente una rapida condivisione delle informazioni e l'organizzazione di eventi. È affascinante l'impatto della tecnologia sui movimenti politici di oggi. Di sicuro. Continuiamo a discutere di questi argomenti. Rimanere informati è così importante. Lezione 11. L'evoluzione dei veicoli E Anna. Ho trovato alcune informazioni affascinanti sui primi veicoli. Davvero? Cosa hai scoperto? Ho saputo che le carrozze a vapore venivano usate in Inghilterra nel 1800. Interessante. Ma ho sentito che erano piuttosto grandi e ingombranti rispetto ai veicoli odierni. Esattamente. Non erano molto pratici per l'uso quotidiano. Riesci a immaginare di guidarne una in giro? Niente affatto. Devono aver occupato molto spazio sulle strade. Quali erano alcune delle loro caratteristiche? Erano alimentati da motori a vapore che richiedevano molta manutenzione. Sembra complicato. È incredibile quanta strada abbiamo fatto con i veicoli moderni. Sicuramente. Le auto di oggi sono molto più efficienti e compatte. Cosa ne pensi dei veicoli elettrici? Penso che siano il futuro. Sono ecologici e spesso hanno costi di gestione inferiori. Assolutamente. Inoltre, i progressi tecnologici li rendono ancora più attraenti. Non ancora. Ma mi piacerebbe provarne uno. Ho sentito che hanno una coppia istantanea. Il che li rende davvero divertenti da guidare. Sì. E sono silenziosi. Il che è un bel cambiamento rispetto ai motori tradizionali. Sono d'accordo. È emozionante pensare a come i veicoli continueranno a evolversi. Di sicuro. Non vedo l'ora di vedere quali innovazioni ci attendono all'orizzonte. Continuiamo a parlare di questo argomento. C'è così tanto da imparare sulla storia dei trasporti. Lezione 12. Governance compassionevole. Ehi, Anna. Recentemente ho pensato al ruolo del governo nella società. Questo è un argomento interessante. Cosa stai considerando in particolare? Credo che abbiamo bisogno di un governo abbastanza forte da usare le parole amore e compassione nelle sue politiche. Assolutamente. Una governance compassionevole può portare a comunità più inclusive e solidali. Esattamente. Si tratta di comprendere i bisogni delle persone e affrontarli con gentilezza. Sì. E un governo intelligente convertirebbe anche le nostre più nobili intenzioni in soluzioni attuabili. Giusto. Le politiche dovrebbero riflettere non solo l'efficienza ma anche l'empatia. Avete visto qualche esempio in tal senso? O. Alcuni paesi si concentrano su programmi di assistenza sociale che danno priorità alla salute mentale e al sostegno della comunità. È incoraggiante. Dimostra quanto possano essere efficaci le politiche compassionevoli. Cosa pensi si possa fare di più? Penso che l'istruzione sia fondamentale. Insegnare ai futuri leader l'empatia può creare una società più compassionevole. Assolutamente. L'istruzione può favorire la comprensione e ridurre le divisioni tra le persone. E coinvolgere i cittadini nel processo decisionale può fare una grande differenza. Sì. Quando le persone si sentono ascoltate, sono più propense a interagire positivamente con il proprio governo. Crea un senso di appartenenza e responsabilità all'interno della comunità. Esattamente. Continuiamo a sostenere la compassione nella governance. È fondamentale per un futuro migliore. Lezione 13. Conversazioni casuali. E Anna, hai sentito parlare del nuovo evento della community che incoraggia la conversazione? Sì. Sembra un ottimo modo per entrare in contatto con gli altri. Mi piace che nemmeno tu debba travestirti. Esattamente. Gli studenti entrano indossando magliette e jeans, il che lo rende molto rilassato e invitante. È perfetto. Crea un'atmosfera confortevole in cui le persone possono essere semplicemente se stesse. Penso che sia importante per promuovere connessioni autentiche. Hai mai partecipato a un evento simile? Oh, sono andato a una serata di narrazione in cui tutti hanno condiviso storie personali. È stato così coinvolgente. Sembra incredibile. Lo storytelling può davvero unire le persone. Qual è stata la tua storia preferita di quella notte? C'era una storia toccante sul superamento delle sfide. Hai ispirato tutti i presenti. Adoro le storie del genere. Ci ricordano la nostra umanità condivisa. Cosa pensi sia un buon inizio di conversazione? Penso che fare domande aperte funzioni bene. Incoraggia discussioni più approfondite. Assolutamente. Domande come, qual è la tua destinazione di viaggio preferita, possono suscitare storie interessanti. Sì. Inoltre, dimostra che sei sinceramente interessato a conoscere l'altra persona. Esattamente. Sento che le conversazioni possono portare a amicizie inaspettate. Sicuramente. Non sai mai con chi potresti entrare in contatto durante questi eventi. Facciamo in modo di parteciparvi insieme. Potrebbe essere un'esperienza divertente. Lezione 14. Il potere del videomarketing. Ehi, Anna. Ultimamente ho letto del videomarketing. Sì, credo che il videomarketing possa essere uno strumento potente per le aziende. Assolutamente. Vale sicuramente la pena investire tempo e risorse in. Cosa pensi lo renda così efficace? Penso che i contenuti visivi catturino l'attenzione molto più rapidamente del testo. Le persone sono naturalmente attratte dai video. Esattamente. Inoltre, i video possono trasmettere emozioni e storie in un modo che altri formati non possono. Giusto. Una storia vincente può creare una forte connessione con il pubblico. Hai visto esempi di successo? Sì. Di recente ho visto un annuncio video che raccontava una storia sentita su una famiglia. Mi ha davvero colpito. Questo è il potere della narrazione. Mantiene gli spettatori coinvolti e li incoraggia a condividerlo. Sicuramente. È incredibile come un buon video possa diventare virale. Quali piattaforme ritieni siano le migliori per il marketing video? Credo che piattaforme come YouTube e Instagram siano ottime per raggiungere un vasto pubblico. Assolutamente. Hanno una base di utenti enorme e i video possono essere facilmente condivisi sui social media. Inoltre, i brevi video su TikTok stanno diventando sempre più popolari. Sono perfetti per contenuti rapidi e accattivanti. Sì. È affascinante come si sia evoluto il formato dei video. Che tipo di contenuti video ti piace creare? Adoro realizzare video didattici. È gratificante condividere conoscenze e aiutare gli altri a imparare. Meraviglioso. Penso che i contenuti informativi siano sempre richiesti. Dimostra la tua esperienza. Esattamente. Forse dovremmo collaborare a un progetto video qualche volta. Sembra un'idea fantastica. Facciamo un brainstorming su alcuni argomenti che possiamo esplorare insieme. Lezione 15. Abbracciare nuove culture. E Anna. Stavo pensando a quanto sia importante avere una mentalità aperta e curiosa quando ci sia data una nuova cultura. Assolutamente. Avere una mentalità aperta può davvero migliorare l'esperienza di immergersi in una cultura diversa. Giusto. Ti permette di apprezzare nuove prospettive e tradizioni. Come posso adattarmi rapidamente a una nuova cultura? Un ottimo inizio è imparare la lingua. Anche solo alcune frasi di base. Dimostra rispetto e disponibilità a impegnarsi. Questo è un buon punto. La lingua può colmare le lacune e creare connessioni con la gente del posto. Esattamente. Inoltre, provare il cibo locale può essere un modo divertente per esplorare la cultura. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Il cibo riflette molto su una cultura. Sono entusiasta di provare nuovi piatti. Dovresti anche partecipare a eventi o festival locali. È un modo fantastico per incontrare persone e imparare in prima persona. Sembra un'ottima idea. Amo l'energia dei festival. Cos'altro può aiutare? Anche il rispetto delle norme e dei costumi sociali è importante. Ti aiuta a capire come interagire in modo appropriato. Vero. Ho sentito dire che essere adattabili e pazienti è fondamentale per affrontare le differenze culturali. Assolutamente. A volte le cose possono non andare come previsto, ma mantenere una mentalità positiva aiuta molto. Non vedo l'ora di vivere tutte queste esperienze. Sarà un viaggio meraviglioso. Lo sarà. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure e sulle nuove cose che scoprirai. Grazie. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze e intuizioni lungo il percorso. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video.